Riccardo Cafagno, consigliere federale FITARCO, a questa edizione dei giochi studenteschi di tiro con l'arco, ancora una volta hanno vinto i numeri, c'è veramente il pienone qui al Palacus. Beh sì, la tradizione della Liguria nel tiro con l'arco di avere il pienone, noi portiamo avanti questa politica federale, il nostro futuro come per tutte le federazioni sono i giovani e puntiamo decisamente su quello. Io tra gli altri settori mi occupo anche dei disabili, del para-arceri e l'Italia è una delle nazioni ai vertici mondiali, anche le ultime edizioni di Pecchino ci hanno portato due medaglie, abbiamo addirittura anche un campione del mondo dei non vedenti perché sembra assurdo però al tiro con l'arco lo fanno anche i non vedenti, si può fare e abbiamo il campione del mondo, quindi vuol dire che in Italia stiamo lavorando bene. Ci sono dei piccoli accorgimenti dell'attività per i non vedenti che la differenziano rispetto a quella dei domodotati? Beh, sono divisi ovviamente, si chiamano classificazioni, sono divisi in varie classi a seconda della tipologia di handicap e della gravità di handicap, in base a queste tipologie poi vengono fatte le classifiche, ovviamente ci sono dei piccoli accorgimenti, per esempio parlavo dei non vedenti, hanno un mirino tattile, cioè praticamente un sensore nella mano che gli fa regolare l'altezza della freccia, cose del genere, che però per loro è utilissimo. Per il resto gli altri non hanno dei grossissimi accorgimenti, se no un supporto magari maggiore nella carrozzina o cose del genere, però sono piccole cose. A livello di calendario 2010 a che punto siamo della stagione e quali saranno a livello nazionale gli appuntamenti più importanti? Dunque, ci sono stati ora i campionati italiani a Varallo Pombia, a Novara, ci saranno i campionati italiani a luglio giù a Siena, poi a Gibonzi, e poi ci saranno i campionati europei di Vichy che saranno molto importanti, inoltre ci sarà probabilmente una trasferta a Londra o a Praga, insomma quindi la federazione sta investendo anche su quello, molto bene.